Papi, ma se io volessi conquistare una ragazza come dovrei fare? Eh, vai da lei, le dici mi piaci, stiamo insieme, se ti dici sì bene, se ti dici no, fa senso. Allora io vado. Vai, vai. Ma papi no, non si fa così, devi corteggiarle, conquistarle le signorine. Eh, papi? Noi ci vediamo domani, ciao. Bravo, bravo, bravo amore, vecchio marpione.